Comiso, Donna Lucata e Vittoria sono i luoghi dove è stato perpetrato il maggior numero di furti, risultati fondamentali al riscontro dell'attività di indagine seguita dai carrabinieri del nucleo investigativo di Ragusa, che ha portato all'arresto di sei pregiudicati vittoriesi accusati di furto pluriaggravato in concorso. Con l'operazione Clepto, i militari dell'arma, con il coordinamento della procura di Ragusa, hanno sgominato la banda che ha messo a segno gli ingenti furti di fitofarmaci, antiparassitari, prodotti per la casa ed anche gasolio agricolo, ai danni di aziende agricoli, industriali e artigianali e anche in abitazioni private. In manette sono finiti Giuseppe Giordanella, Gianluca Rotante, Gian Battista Saune, Ignazio Lorefice, Giuseppe Giliberto e Giuseppe Avola. L'attività investigativa ha avuto origine a seguito del tentato omicidio di Giordanella, perpetrata da Cate nel luglio dell'anno scorso. Con l'esplosione di numerosi colpi di pistola, chiaramente indirizzati per uccidere. Giordanella si era rifugiata alla stazione dei carabinieri di Acate, raccontando l'accaduto e fornendo dichiarazioni discordanti e fuorvianti sui responsabili e sulle motivazioni alla base di tale episodio criminale. I militari hanno capito che l'agguato poteva essere riconducibile all'ambito di ambienti malavitosi e che si trattasse di un vero e proprio regolamento di conti. Le successive attività investigative, compedinamenti ed intercettazioni telefoniche ambientali hanno consentito di ipotizzare l'esistenza di un gruppo criminale organizzato e da tempo attivo nel territorio della provincia di Ragusa, dedito alla programmazione e realizzazione di furti. Contestualmente gli investigatori hanno delineato il modus operandi della banda, il che ha consentito di individuare la base logistica, i mezzi utilizzati per compiere i colpi, oltre che accertare la frequenza ed assiduità dei contatti intrattenuti tra i sei arrestati. Tra la strumentazione che il gruppo aveva ci sono flessibili e disco rotante cannelli ossidrici, grimaldelli, passamontagna, sottocaschi, radiotrasmittenti e visore notturno, a riscontro della professionalità con cui agivano. Intanto, durante l'esecuzione dei provvedimenti di stanotte, si è proceduto anche al sequestro di un ingente quantitativo di fitofarmaci, di presumibile provenienza illecita, che messi sul mercato avrebbero fruttato al gruppo circa 10.000 euro. Un elemento che farebbe presupporre che la banda fosse ancora attiva. Tutti e sei sono stati associati al carcere di Ragusa.